Bene, buonasera a tutti i presenti e anche i collegati che lo saranno. Diamo l'apertura del convegno annuale della funzione giustiziana, della funzione di Milano, che rappresento e rivolgo qui nella nostra sede vicino al Duomo questo momento di importante atteso di lavoro. È il ventiquattresimo appuntamento e ogni anno si ritraccia un tema importante, profondo, che costituisca uno sviluppo per la vita della persona, della cultura, della convivenza. Quest'anno il tema che si è individuato è cruciale ed è Persona, Società, Stato, che sottotitola dall'est all'ovest in ascolto di esperienze inattese che ridicono l'io. Certamente questi tre termini, Persona, Società e Stato, indicano gli aspetti principali e collegati tra loro che, intuiamo bene, stanno toccando moltissimo questo periodo, questo anno, e diciamo anche da più indietro, ma che si sono come attuiti anche con la interruzione della vita pubblica, con delle regole da condividere, nuove, quindi delle situazioni inattese da reinventare insieme. Se questo è il titolo, il tema di sottofondo è certamente quello della libertà alla quale si intende puntare. Il tema della libertà, appunto, inteso, vissuto in un senso ampio, capace di condividere, di sopportare e di portare insieme diverse situazioni, o invece una libertà, come il comunicato stampa dell'azione cristiana, sottolineava Ratzinger in questo modo, come una possibilità di fare quello che si vuole e di non essere costretti a fare ciò che non si vuole. C'è una curiosa vicinanza che, come dire, avvicina tutte le distanze geopolitiche e, diciamo, connette molte culture e comportamenti nazionali, statuali, di vita sociale del mondo, che è appunto quello di avvicinarsi a questa percezione della libertà come anzitutto qualcosa di individuale che mi deve consentire sostanzialmente di non avere troppi scorsoni, di non avere troppe responsabilità. E questo ci interpella, ci ha interpellato molto, perché invece in questo tempo, ma anche in situazioni diverse, situazioni di guerra, di fatica, di regimi autoritari, esperienze di libertà positiva, propositiva, aggregatrice, profonda, si incontrano, si conoscono e si mettono in rete. Se l'anno scorso ci siamo chiesti il tema della persona e della rete, della comunicazione, quest'anno, ecco, vorremmo riflettere sul tema della libertà, nel suo legame nella persona, nel suo legame tra le persone, la convivenza e nella concezione di un vivere comune, che di fatto viene espressa in ciò che chiamiamo stato, in ciò che chiamiamo vita. E quindi spostare un po' l'attenzione dalla geopolitica, da discorsi che rischiano una certa astrazione, di guardare la società civile. Questi passaggi avverranno in tre sessioni, questa sessione c'è la prima, molto importante, che è fissa, il tema, lo introduco, poi lascio immediatamente la parola a padre Francesco Braschi, presidente della lezione chiusa e cristiana, il tema della memoria. Questa sera il tema della memoria non è tanto quello di aver memoria di una concezione della libertà che ci hanno consegnato i padri e le storie, quando parlo al plurale di storie e di culture, perché siamo collegati e saremo collegati con relatori da ogni parte dell'est e dell'ovest e del Mediterraneo. Quindi si è come allargato il bacino di attenzione su questo tema. Il tema della memoria è quanto da cosa veniamo, che cosa abbiamo vissuto di così importante per indicarci qualcosa per il presente. E qui vorrei risottolineare molto velocemente ancora il distacco che c'è tra l'Occidente, l'Est, il Medio Oriente e altre zone che convivono con certe tradizioni. Perché il rischio che si può correre è proprio quello di, come dire, dimenticare e non individuare la forza effettiva che esperienze ci possono trasmettere oggi. E dunque vedremo queste esperienze questa sera. Ma adesso facciamo uno stacco, prima di partire con i nostri interventi, con l'accoglienza che ha avuto e che ha questo convegno da parte di diverse autorità. Padre Francesco. Grazie a Camillo, grazie anche a tutti voi che siete presenti in sala. E vorrei innanzitutto salutare Padre Gabriele e Padre Mina, che sono rappresentanti della comunità Copta Autodossa di Milano. Al convegno dell'anno scorso c'era stata anche una relazione di una appartenente a questa comunità. E quindi la loro presenza è segno comunque di una continuità di attenzione reciproca e di stima reciproca. I messaggi che abbiamo ricevuto non sono semplicemente una questione di circostanza, proprio perché il primo messaggio che voglio citarvi, che ha sorpreso anche noi, è un telegramma che ci è arrivato da Papa Francesco a firma del Cardinal Parolini. E dice così il telegramma. Il sommo pontefice spiritualmente presente rivolge il suo cordiale saluto ed esprime apprezzamento per l'iniziativa che intende riflettere sul valore del singolo in un rapporto costruttivo con la società civile per ripensare e ridefinire l'io in continua apertura verso il noi, con il desiderio di proporre modelli che superino aspetti e atteggiamenti di chiusura che sono caratteristici sia delle società occidentali sia di quelle post-sovietiche. Papa Francesco, mentre chiede di continuare a pregare per lui, per intercessione della Santa Madre di Dio, di cuore invia a lei, ai collaboratori e a tutti i presenti, la desiderata benedizione apostolica dal Vaticano 5 novembre 2021. Ecco, Papa Francesco, che noi ringraziamo veramente di cuore per questo saluto che ha voluto inviarci per la sua benedizione, ci ricorda come riflettere sul valore del singolo, sia anche riconoscere che la persona, l'io, è fatto per essere in continua apertura verso il noi e così individua un tema fondamentale per il nostro convegno. Arriveremo a svilupparlo nelle tre sessioni, ma coglie veramente il segno quando dice il desiderio di questa riflessione, che non è appunto puramente astratta o filosofica, è quello di proporre dei modelli che superino aspetti e atteggiamenti di chiusura. Eppure si ritrovano a diverse latitudini. Infatti il nostro convegno presenterà sia degli interventi di taglio più fondamentale, sia delle narrazioni di testimonianze, di esperienze di vita, che in Italia e in altri paesi dell'est, ma non solo, avremo anche un collegamento da un'oasi dell'entroterra algerino, per esempio, ci faranno vedere questi tentativi e questi modelli. Sua Eccellenza Monsignor Delpini, l'Arcivescovo di Milano, anche egli ci ha mandato un messaggio di saluto dove dice «Siamo impieti di domande, siamo sorpresi dagli incontri, siamo appesantiti dalla storia e siamo affascinati dalle sfide. Siamo leggeri per volare come coloro che hanno speranza e siamo operosi nel costruire come coloro che hanno una missione. Siamo un popolo in cammino, nessuno può comprendere e realizzare se stesso in una astratta solitudine senza legami. Incominciamo a capire e stupire del nostro essere uomini e donne quando ci riconosciamo immersi in molti rapporti che segnano fin dalla nascita il nostro esserci». E Sua Eccedenza Gintaras Prusias, che è l'Arcivescovo dei Vilnius, ma anche il Presidente della Conferenza Episcopale Europea, ci ricorda che il nostro incontro sarà fruttuoso se potrà rispecchiare la verità sulla libertà dell'uomo che ha sempre bisogno di essere custodita e approfondita anche nell'attuale periodo di emergenza sanitaria. E un messaggio che ci è particolarmente caro, perché viene da un amico che da tanti anni segue la vicenda di Russia Cristiana, è il messaggio di Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo cattolico della Diocesi della Madre di Dio a Mosca. Monsignor Pezzi ci scrive «Ascoltare esperienze che riannunciano Dio, la persona, come protagonista della società e dello Stato, mi sembra già una concreta opportunità di sostenere l'umano che come viole di speranza sbuca dal tappeto di foglie secche in cui ci troviamo». E continuo. Parlare della persona, di esperienze inattese, di società e di Stato, significa domandarsi per che cosa ci siano la società e lo Stato e per che cosa ci siano date. In altre parole si tratta di rendersi conto del senso della vita, di ciò che dà senso alla persona, alla società, cosa rende un'esperienza veramente attraente. che dice Vaclav Abel, il famoso dissidente e poi presidente della Repubblica cieca, scriveva che convivere con questa domanda sul significato della vita, sul valore della persona e della società, non significa niente di più che rispondervi continuamente o piuttosto essere in una forma di relazione vivente col significato. Perché il senso della vita non è un punto alla fine della vita, ma l'inizio di una esperienza più profonda della vita. Essere quotidianamente in contatto con questo mistero ci rende autenticamente umani. E augura Monsignor Pezzi, augura lei agli organizzatori e partecipanti di poter uscire da questo convegno cambiati, con una umanità accresciuta. Anche il Vescovo di Bergamo ci ha inviato il suo saluto e ci ricorda che questo convegno pone una domanda anche al nostro essere Chiesa, come una Chiesa capace di servire la vita là dove la vita accade, in un clima di fraternità, ospitalità e prossimità. E da ultimo, l'ultimo messaggio che cito è di padre Bernard Bardurat, è il presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e lui ci ricorda che dal recupero fecondo della memoria che previene dalle patologie individualistiche dell'autoreferenzialità, le nostre riflessioni muoveranno verso una nuova lettura, sia personale sia comunitaria, del concetto e della prassi di libertà, che diventa vera nel dialogo comprensivo e nel servizio operativo dei fratelli e delle sorelle. Ecco, mi sembra che questi messaggi, come vi dicevo tutt'altro che di semplice circostanza, ci fanno capire che il lavoro che faremo in questi due giorni è un lavoro che viene atteso anche nei suoi risultati, che viene atteso tanto in risultati individuali, per ciascuno di noi che partecipa a questo convegno, quanto in risultati che possano poi essere di aiuto al cammino di tutte le chiese, della chiesa cattolica, ma non solo. E questo è il desiderio che anima anche noi, per cui grati a quanti ci hanno inviato la loro benedizione, la loro partecipazione, volentieri adesso possiamo entrare nel vivo dei nostri lavori. Ecco, allora possiamo come primo intervento collegarci con Mosca, con il professore Nicolai Eple, storico e saggista, benvenuto, che interverrà appunto a questa sessione dedicata al recupero di una memoria che ci liberi della autoreferenzialità, quindi allarghi, come abbiamo ascoltato che dai saluti ricevuti, questa profondità della persona e del legame profondo. Parlerà del tema tra vendetta e oblio, il perdono come metodo per affrontare il difficile passato, in vista del futuro. Si può partire. Grazie. 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 Slyssi mi? Slyssi mi? Slyssi mi? Slyssi mi? Grazie. Grazie a tutti i organizatori della conferenza per il convivio. Io ringrazio Adriano e Marta del Asto. Monsignora Francesca Branci. Io ringrazio per la possibilità di partecipare in questa conferenza. Io ringrazio questa conferenza e il titolo della mia relazione è Tra vendetta e dimenticanza, il fenomeno del perdono come criterio della qualità del lavoro con un passato difficile. Come titolo del mio intervento sto riprendendo la relazione di due studiosi, Bob Lichy Dimitrovsky, che sono stati pubblicati in Russia quest'anno e sono stati dedicati ai meccanismi giudiziari di superamento delle conseguenze dell'impunità sistemica dei crimini in Russia e URSS. Lo spazio tra la vendetta e la dimenticanza tradizionalmente viene occupato dal criminale, dal processo e dalla qualificazione giuridica del crimine in quanto crimine. Io voglio parlare del fatto che in realtà lo spazio tra la vendetta e la dimenticanza, molto più che ha diritto, appartiene al perdono e che questo vale la pena di ricordarlo per tutta una serie di motivi. In primo luogo, proprio il perdono di solito, in pratica, sostituisce il sostituto della giustizia. Sì, il tribunale, il processo tradizionalmente viene associato al ripristino della giustizia attraverso la punizione dei criminali, però di fatto l'esperienza della maggior parte dei paesi che hanno conosciuto violazioni massicce e sistemiche dei diritti umani mostra che l'insieme di misure denominate giustizia punitiva, in questi casi, di regola non funziona. Qualcosa di simile al processo di Norimbega, in genere, è impossibile o è strumento difficoltoso politicamente. Inoltre è impossibile mettere in galera tutti colpevoli, ormai si è perso tempo ed è diventato proprio tale. Quest'ultimo caso, effettivamente, è il caso del terrore staliniano, per esempio la repressione staliniana in Russia. Nella Pras, di fatto, la maggior parte dei paesi che tentano di fare qualcosa nel proprio passato criminale agisce non nell'ambito della giustizia punitiva, ma nell'ambito della giustizia riparativa. Il principio è fondamentale su cui si basa la logica della giustizia riparativa, è il principio e il meccanismo del perdono. Il perdono è un perdono interpersonale, è una logica di cui si avvale l'istituto di giustizia di transizione. E ci sono vari esempi di questo tipo di uso del perdono e non vale la pena di prestarvi attenzione, di soffermarci, diciamo. In secondo luogo, come appare chiaro dai nomi del più diffuso istituto di giustizia di transizione, Truth and Reconciliation Commission, la verità è una commissione che lavora nei paesi che passano dalla dittatura a democrazia in tutto il mondo, che sono passati negli anni 70, 80 e nel ventesimo secolo. Da questa denominazione risulta chiaro che la verità è importante, non soltanto in quanto tale, ma proprio come condizione della riconciliazione. processi tribunali sono importati non in sé, ma come condizioni per cui una società divisa dai crimini possa continuare ad esistere in futuro come un'unità integra. E il perdono è il principio, il meccanismo, la chiave, diciamo, di questa riconciliazione. Terzo, e forse questa è la cosa più importante, proprio il perdono mostra il metodo che ci permette di risolvere un serio e tutt'altro che semplice dilemma che non trova soluzione nell'ambito degli studi sulla memoria o della giustizia di transizione. E cioè, in che cosa consiste questo dilemma? come contemporaneamente, da un lato, fare sì che il passato criminale non si ripeta, come tenere le ferite aperte, come ricordare quello che è successo, e questo è il compito che generalmente si pongono di pensione dei diritti umani e degli attivisti civili. E dall'altra parte, al teppo stesso, come riconciliarsi e lavorare per sanare divisioni, cioè per continuare a poter vivere insieme nel futuro, ed è questo il compito che generalmente si pongono i politici o i giuristi. Questo dilemma, nell'ambito delle concezioni giuridiche e politologiche, non è risolvibile. Mentre il perdono ci aiuta a risolvere questo dilemma. Io qui mi rifaccio alla definizione di perdono che ho trovato in uno dei migliori libri sul perdono come fenomeno morale. È il libro di uno storico americano della filosofia, Charles Griswold. Secondo Griswold, il perdono per la vittima di un crimine e di un'offesa significa rinunciare al resentment, cioè a dei sentimenti negativi, all'osgave, all'illuminazione, all'esentimento, nei confronti del criminale, senza però dimenticare il danno subito e senza esentare l'offensore dalla responsabilità di quanto ha fatto. Cioè, da un lato, è la memoria di ciò che è successo, cioè il mantenere il concetto di responsabilità e dall'altra parte il rinunciare ai sentimenti negativi di risentimento e di odio e se si sottopone a verificare il passato difficile secondo queste due categorie, mi sembra che lo si possa realmente e seriamente disciplinare. Inoltre, il fenomeno del perdono è un criterio importante di verifica della qualità del lavoro pubblico sul passato. Da un lato, il lavoro sul passato, che respinga l'obiettivo di liberarsi da questi sentimenti estili, perde di vista il proprio fine, che è la rinunificazione del tessuto sociale diviso dall'unale. dall'altro, trasformare acriticamente il perdono in un ordine del giorno politico e ideologizzarlo conduce alla profanazione di tutto il lavoro e fa nascere nelle vittime un risentimento, uno sveglio, un'illignazione che continua alla ceramica e spesso sociale. Inoltre, nonostante tutta l'importanza della categoria del perdono, essa non viene riconosciuta come tale e chi ne parla, chi parla del perdono, continuamente deve giustificarsi e spiegarle a propria scelta del tema. Io lo vedo benissimo su me stesso, quando parlo da qualche parte, in qualche riunione del perdono, perché, per quanto possa sembrare strano, il problema, il perdono, scusate, ha una gran brutta immagine pubblica, perché viene troppo strettamente collegato, in primo luogo, alla dimenticanza, cioè a dimenticare e perdonare, perdonare e dimenticare, oppure a vari tipi di manipolazioni politiche. Allora il regime che eredita il totalitarismo, propone alla società di perdonare i criminali per lasciare perdere un discorso che potrebbe diventare difficile e complesso. E il terzo, il perdono, viene associato a una specie di indulgenza, di buonismo, la costruzione delle vittime a dosare in magnanimità, ma senza fare nessuna serie di richieste colpevole. E spesso questo lo si fa facendo riferimento alla Chiesa, cioè una richiesta di perdonare incondizionatamente, come fa la Chiesa, dico. Bisogna dire che in realtà il perdono non è niente di tutto questo. Allora come migliorare questa immagine pubblica del perdono? Io direi che è necessario una specie di programma educativo che è composta di due parti. Innanzitutto spiegare che perdonare non significa dimenticare e lasciar correre, che il perdono può nascere solo in risposta a un riconoscimento della colpa, è una richiesta di perdono. E il secondo punto è che bisogna parlare il più possibile in modo ampio di casi e al di perdono, mettendo però l'accento non sulle vittime che hanno perdonato. in qualche modo hanno perdonato risolvendo i problemi psicologici e spirituali. In questo senso un grosso ruolo ce l'hanno i libri del Cirespo Desmond Tutu che è chiamato il leader dell'ideologia della dimenticanza. Mi sembra che è importante mettere l'accento non sulle vittime ma sui criminali. Cioè raccontare di come in alcune situazioni alcuni criminali hanno saputo chiedere perdono, hanno saputo fare un lavoro su di sé, un lavoro di redenzione di sé. E qui è molto importante mostrare che cosa debba fare la persona o la società che voglia essere perdonata. La categoria della contrizione è di fatto priva di un contenuto pratico comprensibile e sarebbe bello, sarebbe utile provvederla, diciamo, di esempi. Si possono fare alcuni esempi. Io per economizzare il tempo non racconterò questi esempi. poi, eventualmente, se ci saranno domande posso fare questi esempi. Esempi di questa contrizione dei criminali. ma adesso aspettiamo e voglio adesso terminare dicendo che il tema della memoria dell'elaborazione dei traumi e del lavoro sul difficile passaggio oggi è diventato un tema dominante o del pure una moda in modo strano perché sembrerebbe un discorso difficile leppure di modo è così. E negli studi sulla memoria e anche nella cultura di massa è così. Questo è bene. Però questa popolarità, diciamo, assunta dal tema spesso conduce a una semplificazione o a sottacere gli aspetti più difficoltosi. forse l'accento sul fenomeno del perdono in tutta la sua complessità nel suo possibilità di mantenersi in equilibrio tra vendetta e dimenticanza sarebbe un modo per mantenere il tema del lavoro sul passato difficile in tutta la sua complessità e tutta la sua difficoltà senza volerlo semplificare o fare sconti e una conclusione che può essere importante per la discussione di questo convegno è questa. Secondo me il perdono per definizione è un fenomeno di relazioni interpersonali. Il perdono alcuni elementi del meccanismo del perdono possono ingrandirsi allargarsi di questa pratica di questa giustizia riabilitativa però devono sempre essere verificati sulla dimensione personale bisogna sempre parlare di esempi personali e non perdere mai di vista la dimensione personale quindi per non correre il rischio di politizzazione e di legislazione il lavoro sul passato pur muovendosi nel campo sociale deve conservare questo carattere personale deve essere sempre verificata sulla dimensione personale questo è molto importante molto utile e la pratica cristiana di regolare le proprie azioni usando sempre criteri personali qui può essere un sostegno importante grazie grazie al professore Ple interessantissimo questo di spunti che ha dato sulle tracce anche di parole chiave e di rinterpretazioni sociali che anche in paesi diversi dal suo qui occidente si stanno percorrendo questo richiamo finale molto importante di non togliere mai o meglio che l'unico modo per non svilire il perdono questa grande possibilità di dimensione che si può aprire nell'animo di un uomo della società sia appunto personale perché la strumentalizzazione o la banalizzazione di questo è sempre alle porte cioè far diventare come dire un sistema un meccanismo una dinamica che invece tocca appunto quel grande tema che stiamo iniziando a ricordare la libertà canalare la libertà la libertà fiorisce si muove e genera e crea guardiamo allora adesso che cosa invece nella nella storia della 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 russia dell'est ci può venire in in aiuto e al professor dell'asta interviene su questo tema dell'altro e la riscoperta dell'io nel pensiero russo quindi questa fonte articolata e grande vasta che è la il pensiero russo ricordo quanto detto all'inizio non è mai non è mai abbastanza quanto dobbiamo scoprire e conoscere di questa di questa profonda fonte mariano dell'asta ringraziamo docente di lingua e letteratura russa università cattolica di milano di grescia e storico di contazione russa e cristiana a giù la parola grazie camillo buonasera a tutti se dovessimo riconsiderare come ci sono evoluti il rapporto tra l'io e l'altro e la coscienza che ne abbiamo credo che dovremmo concludere che negli ultimi decenni si è verificato un vero e proprio terremoto ad esempio accanto alla iniziale riscoperta della essenzialità della relazione della relazione io o altri spesi a uber us a merleau ponti o a levinas si è fatto strada un netto rifiuto di qualsiasi relazione l'altro è il nemico sia a livello del rapporto tra le persone sia a livello dei rapporti tra le nazioni pensiamo oggi alle varie forme di rifiuto di qualsiasi diversità identitarismi nazionalismi sovranismi suprematismi ogni giorno si inventa un mondo ma si pensi anche a come queste chiusure passando dal livello personale a quello nazionale si siano ormai trasformate in una sorta di terza guerra mondiale a pezzi non solo con la fine di vecchie alleanze e la crisi di tanti sogni di unità diciamo anche solo la crisi del sogno dell'unità europea ma anche con l'esplosione di nuovi conflitti assolutamente reali peraltro anche al di là di queste crisi magari momentane e temporanee la relazione in quanto tale non appare più come un valore cui aspirare non indica più un rapporto che andrebbe coltivato nella prospettiva di una possibile costruzione la relazione è diventata il luogo del sospetto e dello sfruttamento certo questa non è una novità in fondo anche nel pieno della scoperta della relazione come positivo c'erano state per carità le tragedie del razzismo nazista e del nazionalismo fascista da una parte e dell'internazionalismo sovietico dall'altra e poi persino in ambiti lontani da questi estremi pericolosi e gravi c'era stato anche un Sartre un grande filosofo che aveva parlato degli altri come di un inferno gli altri sono l'inferno e del rapporto con l'altro come l'occasione per la manifestazione di un esercizio inevitabilmente e unicamente sadomasochista l'osservazione è ovviamente c'è sempre stato questo è corretto ma allora quando venivano pronunciate questi giudizi si poteva ancora rispondere ai tempi di Sartre si poteva ancora rispondere che questa rappresentazione della realtà era in fondo soltanto la rappresentazione di una sua patologia e nei casi limiti dei totalitarismi di una patologia sorprendente ma poi comunque superata oggi si tratta invece di qualcosa che pare diventato non patologico ma fisiologico per cui non è più nemmeno pensabile quella che un tempo sarebbe stata la normalità di vedere nell'altro un amico o comunque un compagno strato oggi non ci sono altri con i quali avere un rapporto magari anche conflittuale ci sono nemici da sottomettere e di cui annullare la diversità come vorrebbero i vari populismi sovranisti o dai quali essere sottomessi nella cui diversità perdere la propria identità come rischiano di fare tutti i globalismi ci pensi appunto all'attuale proliferare di ogni forma di complottismo per cui di fronte anche a un fenomeno naturale la prima reazione non è mai quella di guardare in faccia la realtà di quello che accade non si cerca di indagarne le caratteristiche per indicarne eventualmente le cause se ne cerca esclusivamente il colpevole così che quello che accade nella realtà non ci interessa mai veramente se non per eliminarne la specificità per non essere più sorpresi da qualcosa da qualcosa che è diverso che esce dalle nostre attese con l'esito secondario non trascurabile che non potendo eliminare la realtà finiremo per esserne sempre più soprafatti la patologia della negazione del reale che era stata rappresentata dai totalitarismi apparentemente sanata dalla fine delle ideologie si ripresenta oggi come una nuova normalità tanto più totalizzante vecchi totalitarismi invasiva e pericolosa in quanto è inavvertita e per fortuna ancora incapace di produrre le tragedie del secolo scorso comunque totalizzante invasiva e pericolosa perché oltre a questo invece di manifestarsi all'esterno in maniera evidente o a livello statuato ad esempio ci accompagna a una vera e propria catastrofe interna con la distruzione del soggetto di fronte a questa situazione di paralisi dell'io e della società dove l'altro è un nemico e la società diventa impossibile per la semplice mancanza di un linguaggio comune la storia della Russia del secolo scorso si è brutto dire del secolo scorso sembra un altro mondo invece poco fa ha delle cose interessanti perché ha provato questo fenomeno nella maniera più macroscopica con la rivoluzione e subito dopo la rivoluzione chiaro non mi occuperò più della rivoluzione in quanto tale ma del fatto che esattamente come oggi anche allora il mondo che stava per essere travolto dalla crisi invece di cercare di capire il significato di quello che stava accadendo si perse nella ricerca e nell'odio del nemico voglio dire che i bolshevik erano bravi persone ma non è quello anche in quel caso ci si preoccupò innanzitutto di individuare i responsabili del presunto complotto che avrebbe causato la crisi di incorso però non era quello trovare il complotto si parlò allora di un appunto di un presunto complotto giudaico massonico o di un presunto accordo delle potenze occidentali per punire l'impero russo ma a parte il fatto che prove di simili complotti non sono mai state trovate resta fondamentale questo proposito giusto per iniziare a disputerne un'osservazione che ha fatto su ogni forma di complottismo Anna Arendt è il grande studioso del totalitarismo quindi un personaggio non ingenuo e la cito ai nostri giorni le leggende attraggono migliori come le ideologie i mediocri e le dozzinali fantasticherie sulle segrete congiure di potenze occulte i peggiori dati in altri termini la mania del complottismo non solo non si appoggia mai su nessuna prova ma finisce per rendere peggiore di quello che è anche la vittima del presunto complotto e ciò che è anche più grave diffonde questo è tutto diffonde nella società un'atmosfera letale a forza di vedere le cause del male solo nell'altro in quanto altro ci si abitua a vedere negli altri solo dei nemici dai quali difettarsi si legittima questo modo di comprensione che diventa comune questo è successo dopo la rivoluzione non me lo sto inventando quando per spiegare ogni evento non gradito dal regime questa volta l'atmosfera era diventata tale che per spiegare ogni evento non gradito dal regime o per giustificare le misure che il regime prendeva le misure repressive venne inventato via via tutto un inventaglio di complotti dei complotti più incredibili da quello dei vecchi alleati maescevichi di sinistra da quello dei socialisti rivoluzionari a quello degli ingegneri a quello dei contadini ricchi a quello dell'armata rossa dei servizi segreti di una parte del partito sono le grandi purghe degli anni 30 fino a quello dei medici ebrei diciamo alla soglia della morte di Stalin nel 1950 per giustare per giustificare questa proliferazione scusate dietro ciascuno di questi complotti ci sono migliaia di morti per giustificare questa proliferazione del tutto inragionevole si è reinventata sin dal 1922 precocissimo è una lettera di Lenin su un articolo da inserire nel nuovo codice penale su 1922 Lenin si inserisce la categoria di nemico oggettivo cioè letteralmente chi aiuta oggettivamente o può oggettivamente aiutare la borghesia più grande questi potevano essere fucilati come disse Solzhenitsyn era per la prima volta nella storia che un popolo era diventato un nemico di se stesso non casualmente oggi l'occidente è diventato il primo nemico di se stesso ecco questo è l'altro esempio si può rispondere però più acuto criticamente decisamente più fecondo rispetto a questa imposizione è stato invece l'atteggiamento di Verdiayev un grande pensatore ex marxista all'inizio del secolo diciamo tra il 1905 e il 1925 testi che citerò adesso di fronte alla rivoluzione in un momento in cui non poteva avere alcuna simpatia per i bolshevichi bolshevichi gli hanno tolto tutto gli tolgono all'inizio degli anni venti persino la cittadinanza espellendolo dal paese e mettendolo in un decreto che si ritorna viene immediatamente fucilato lo trasformano in una non persona vedo siamo nel 22 23 ecco Verdiayev liquida ogni fantasia sui possibili complotti dicendo lo cito la rivoluzione ha avuto luogo non solo fuori di me e al di sopra di me come un evento incommensurabile con il senso della mia vita cioè privo per me di ogni significato essa ha avuto luogo anche con me come un evento interiore della mia vita il bolshevismo ha preso corpo in Russia e li ha vinto perché io sono quello che sono perché non vi era in me una reale forza spirituale il bolshevismo è un mio peccato è una mia colpa finito della situazione giudizio ritengo acuto e fecondo perché invece di porsi davanti alla rivoluzione come qualcosa che è privo di senso o che comunque è stato compiuto da sconosciuti invincibili sposta radicalmente il problema è dall'idea che si può rispondere richiamando il ruolo della libertà e della responsabilità personale dove ciascuno di noi deve cercare il bolshevico che si porta dentro il punto allora come oggi diceva sempre Berdiaglie e però cito il testo ripeto del 22-23 il punto è che anche nell'Europa occidentale un movimento attivo in nome di un'idea contro il bolshevismo è impossibile perché l'Europa occidentale non ha coscienza di una verità in nome della quale partire incrociata il problema della rivoluzione non si risolveva allora con l'individuazione e la distruzione del nemico ma con la comprensione di ciò che era successo cioè di come fosse stata possibile non la nascita di un nemico esterno ma la trasformazione del proprio io nel primo nemico di se stesso la risposta in fondo è quella che si danno in quegli anni per questa ventina d'anni dal 1900 al 1925 quando Berdiaev e alcuni altri pensatori adesso vedremo Frank e Bulgakov in particolare tutti ex marxisti ritornati o approdati alla chiesa perché Frank era non solo marxista ma era anche come dice il nome di origine ebraica quindi entra nella chiesa dopo che si si va battezzare questi autori individuano il male di cui soffriva la Russia in una tipologia umana importante eccesivo che inizialmente aveva affascinato anche loro stessi perché erano stati rivoluzionari e non di secondo livello qual è questa tipologia umana? appunto quella del rivoluzionario che è padrone del proprio destino padrone della natura signore di una ragione con la quale si fa arbitro dell'universo si rende degno del cielo senza sentirsi debitore di questa dignità con nessun padre celeste era la figura di quello che Sergei Bungakov aveva chiamato il divo o l'eroe che era caratterizzato da una concezione di sé altissima perché la sua ragione gli aveva permesso di scoprire le leggi dell'universo Bungakov era un economista all'inizio e allora le leggi dell'universo erano quelle dell'economia scoperte da Marx oggi abbiamo e abbiamo altre leggi oggi abbiamo quelle che ci hanno convinto di poter produrre in laboratorio tutto quello che abbiamo con questa concezione di sé il rivoluzionario aveva assunto un carattere sempre più massimalista quanto più la propria opera appariva importante tanto più si pretendeva da essa e dagli altri l'esito di questo atteggiamento eroico diceva Bungakov è che si finì per non dare più spazio alla realtà soffocata da una pretesa e da un fanatismo parole Bungakov sordo alla voce della vita intollerante e produttore di continua separazione ciò che qualificava sin dall'inizio in maniera originale questo atteggiamento secondo Bungakov quindi era che non consisteva tanto in una semplice negazione di Dio non era un banale di Dio consisteva piuttosto nella formazione dell'autosufficienza umana che finiva necessariamente col trasformarsi nella distruzione stessa non di Dio ma di Dio l'eroe che aspira a salvare l'umanità che crede di poterlo fare con le proprie forze si disinteressa di ogni realismo sto con la coscienza dei limiti umani e naturali questa pretesa avrebbe radicalmente contestata invece lui no sa tutto può fare tutto vuole arrivare allora subito allo scopo al massimalismo dei fini tutto subito è connesso il massimalismo dei mezzi scritto nel novecento novecento nove questo testo novecento nove sembra scritto questa mattina al massimalismo dei fini tutto subito si connette il massimalismo dei mezzi tutto è permesso un massimalismo nel quale si rivela in maniera evidente sia la pretesa dell'eroe di porsi al posto di Dio e della provvidenza sia l'esito inevitabile di questa pretesa in nome dell'idea si può eliminare ogni legge ogni realtà in nome di questa pretesa in forza della propria autodivinizazione viene eliminato ogni punto di riferimento concreto e assoluto resta soltanto il proprio arbitrio personale io mi credo questo credo questo punto a capo l'arbitrio dei presunti superuomini delle nature elette e neppure guardate di tutte le nature elette in ogni momento della loro esistenza ma solo di alcune nature elette in alcuni momenti privilegiati quelli in cui incarnano la ragione della storia la ragione della storia che è definita così da un ente anonimo e estratto diverse tipologie di questo ente anonimo la volontà popolare la coscienza rivoluzionaria l'unico oggettivo era deciso in base alla coscienza rivoluzionaria non in base alla centri di prova ma questa è un'altra cosa credibile l'opinione pubblica traduciamo oggi quelli che oggi sono tutto dei bacini e dei compagni ma così la persona questo è interessante potentemente affermata nel suo individualismo l'eroe viene assolutamente distrutta nella sua consistenza è privata di un approdo assoluto viene lasciata in balia delle forze della natura della storia della mentalità dominante se volessimo parlare nei termini odierni e dell'odierno complottismo il vero complotto è il complottismo questo lasciare la realtà in un vuoto che può essere riempito da qualsiasi potente in un'assenza di verità e di criteri di ragionevolezza condivisi che costringe poi ad affidarsi al potente di turno se vogliamo rendere possibile la convivenza civile in un mondo dove ciascuno può costruirsi una verità e una realtà a suo proprio piacimento poi di affidarsi al potente che metti da colpo tutti se no è la lotta di tutti contro da un altro punto di vista quello che ci suggerisce Bulgakov era quello che un altro autore quello che citavo prima Frank un altro autore di quegli anni chiamava il nichilismo la posizione di chi come si sarebbe poi visto in seguito è generosamente disposto al sacrificio di sé nichilista non è cattivo ma non è un uomo cattivo anzi è disposto a sacrificarsi però se a questa disponizione radicale non esita di fronte al sacrificio degli altri Frank ne parla in un articolo famoso del 1909 anche lui l'etica del nichilismo ma quello di cui voglio parlare oggi è un episodio personale accaduto una decina d'anni prima appunto Frank si tratta del suicidio di un amico e compagno di lotta rivoluzionario compagno di lotta di Frank che viene arrestato con lui nella primavera del 1899 e che il 5 aprile di quell'anno si uccide dandosi fuoco in carcere perché come dice in una lettera lasciata per spiegare il gesto si era reso conto che ogni volta che gli era richiesto di prendere parte a qualche iniziativa del suo gruppo rivoluzionario si trovava sempre pieno di dubbi se sacrificare la propria giovinezza in nome della causa o godersi la vita verso la quale si sentiva tratto vergognandosi di questa incertezza vergognandosi di sé di fronte all'alto compito che non voleva assumersi fin in fondo decide che non è degno di vivere ma vediamo quello che scrive Frank su questa vicenda una ventina d'anni dopo dal 1924 anche lui ormai buttato fuori dalla Russia e poi avrà il problema quando arrivano i nazisti di essere braccato pure da loro perché battezzato ma ebreo l'uomo si portò per tutta la vita con una fiala di veleno nella tasca della giacca e comunque scrive questo nel 24 prima della morte egli riconosce l'amico che quello che lo tormentava era la sua incapacità a diventare un autentico rivoluzionario la sua interiore repulsione nei confronti di questa attività l'insuperabile desiderio di una normale vita pacifica lui stesso riconobbe di essere un buon annulla e deciso di suicidarsi allora ovviamente noi i suoi compagni non capimmo assolutamente tutta la tragicità di questo riconoscimento anzi lo so utilizzarono questo per dire guardate che cose terribili succedono nelle carce riprendo ma oggi dopo tutto quello che abbiamo vissuto è passato quando ricordo questo episodio mi sento moralmente corresponsabile di tutti gli omicidi e di tutte le atrocità che vengono compiute in nome della rivoluzione si sente moralmente corresponsabile di tutti gli omicidi che vengono compiuti in nome della rivoluzione nelle varie commissioni locali della CECA siamo stati noi stessi infatti servitori dell'idea e del dovere con la nostra convinzione morale alla forma di vita rivoluzionaria e all'eroismo rivoluzionario a condannare a morte questa giovane anima umana assolutamente innocente noi pur senza accorgene l'abbiamo tirannicamente violentata obbligandolo spietatamente a un servizio rivoluzionario per il quale non era affatto portato la domanda che si pose allora frank era semplice e tremenda non chi aveva complottato ma cosa avevano fatto loro stessi loro delle proprie anime per far sì che uno di loro potesse arrivare a un punto simile e per rendere possibile che i suoi amici non ne avessero neppure lontanamente capito la tragedia il tipo di bulgaco il suo nemico di frank sono soltanto due delle mille fisionomie che vennero assunte allora dalla figura dell'uomo nuovo che sarebbe poi diventato il mito mai realizzato della rivoluzione mille fisionomie che avevano però già allora tutte un punto in comune quello di un orgoglioso non riconoscere più nulla al di fuori di sé e indipendente da sé ma questo era il suicidio dell'uomo dell'io perché per diaio sempre lui sempre nel 1923 l'affermazione dell'uomo senza Dio e contro Dio la negazione dell'immagine e della somiglianza divina nell'uomo conducono alla negazione e alla distruzione dell'uomo cioè se non c'è niente di trascendente rispetto alla quotidianità se non c'è niente che sia irriducibile alle cose di tutti i giorni l'uomo resta solo preda di qualsiasi riduzione l'orgoglio si trasforma in una solitudine disperata la società che ne venne già allora per uno strano paradosso invece di produrre un io forte reso forte non fosse altro da questo orgoglio è quella del sospetto e dell'inimicizia l'altro come abbiamo già visto era il nemico oggettivo un nemico onnipresente e la vita era attraversata dalla paura paura del proprio amico familiare tanto più paura del mondo esterno le spie i paesi stranieri che accerchiavano il primo stato socialista del mondo gli agenti stranieri le quinte colonne sono cose che sentiamo anche oggi così non solo non nasce l'uomo nuovo ma non poteva essere realizzata neppure la tanto sognata solidarietà di tutti gli sportati e quanto intuì in fondo questa volta non un cristiano non un avversario della rivoluzione ma uno dei cantori del mondo rivoluzionario Isaac Babel ebreo anche lui grande cantore narratore dell'epopea della prima armata a cavallo che con la sua lotta per la conquista della Polonia e per la sua trasformazione in uno dei paesi dell'internazionale degli oppressi non avrebbe dovuto creare noi oggi sappiamo che in realtà quella lotta la lotta russo-polacca inizia ogni 20 non aveva nessuno scopo di liberazione neppure la semplice sovietizzazione della Polonia vieni stesso come disse i testi che sono stati desecretati diceva che il problema non era abbattere il governo borghese polacco la repubblica del capitale ma il centro cito eh di tutto il sistema dell'imperialismo internazionale contemporaneo ciò che era in gioco non era la Polonia ma più radicalmente la distruzione del vecchio sistema a livello mondiale cosa ci racconta Babel quello che ne risultò non fu la creazione cito di un internazionale di brave persone ma è ripetersi della solita vecchia storia che lui ebreo come diceva cito c'è molta perplessità aspettavano il potere sovietico come la liberazione e invece a un tratto urla scudisci sporchi giudei è un inferno è terribile questo nostro modo di portare la libertà dove si vede un internazionalismo che allora poteva almeno essere contrastato dalla presenza di un altro schieramento oggi la globalizzazione attuale esattamente come la distruzione dell'io sembra non avere alternative visto che all'est come all'ovest non existono più né fatti né verità ma solo i fatti alternativi l'espressione che è stata usata qui e l'altra pur in questo caso la storia russa e adesso finisco accanto a una tragedia ci narra anche di un possibile esito di un ruso Brugiajev aveva parlato di un io che poteva resistere alla negazione e alla distruzione nella misura in cui riconosceva dentro di sé qualcosa che era superiore alla quotidianità e che perciò stesso lo rendeva irriducibile a tutto ciò che è liberativo esiste dire in questo modo apriva lo spazio per riconoscere che l'io la persona è diverso dall'individuo isolato guardate adesso non c'è tempo ma non mi perdo in un lungo discorso teologico appunto brevemente un'altra esperienza quella di Brugiajev ormai emigrato si è stabilito a Parisi e posto però di fronte alla tragedia di una nuova guerra con l'invasione nazista e non riesce a capire come lui possa riuscire in quelle condizioni a lavorare ancora mentre tutti sono accanagliati dalla preoccupazione la moglie gli risponde come se fosse la cosa più naturale ed evidente del mondo ma tu non sei solo tu sei con Cristo guardate io non voglio fare di Brugiajev un santino per carità ma di ricordare un punto di esperienza essenziale l'io è sempre legato a un tu che lo affascina al quale appartiene ma disse Dostoevsky in una lettera alla moglie per spiegarle com'è che aveva smesso di giocare in vizio terribile non ha vinto nessun discorso sono entrato oggi in chiesa e ho capito che appartengo a te e ai nostri figli un giocatore non ha più giocatore e non era un appunto un santino non è un santino è questa coscienza un'appartenenza che ti libera se questo poteva valere per la persona Cristo adesso dovrò Adimbarisso uno degli autori più interessanti nel senso sovietico negli anni sottantica diceva ma se questo vale per la persona vale anche per la nazione cito il cristianesimo ha introdotto nel mondo la nozione di pluralità delle persone all'interno di un'umanità una nella sua essenza ma questo non solo a livello degli individui ma anche a livello dei pochi in questo spazio l'io rinasce non contro qualcuno o a prescindere da qualcuno minacciato da qualche complotto o dall'incapacità di vedere ma nella piena coscienza di quello che accade e della possibilità di svolgervi un ruolo libero ed effettivo grazie 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 andriano dell'asta molto netto e molto chiare i riferimenti a questi quattro cinque grandi settori secolo scorso e così attuali questo aspetto ricostruttivo un legame che libera lo approfondiamo adesso cerchiamo di trottare un po' per molti tempi invito anche a radunare i presenti domande quelli che ci ascoltano di mandarle anche da stasera o domani mattina per la prossima sessione anche per fare la sua riflessione sullo schermo un cellulare whatsapp per inviare quesiti approfondiamo questo tema del legame equilibrio e non dell'io isolato in un'esperienza importantissima e una riflessione anche sociale e culturale che ha come epicentro la cicoslovacchia degli anni fine anni settanta anni ottanta con Vaclav Vedda filosofo amico di Vaclav Havel e quindi su quelle premesse o meglio su quell'esperienza che ha poi consentito quello che si chiama poi la rivoluzione di velluta quella diciamo incidenza anche politica sociale che ha avuto modo di esprimersi fino a quel livello ma qui siamo appunto nei momenti originanti fondativi quindi più interessanti e anche meno meno conosciuti nella loro essenza il tema della polis parallela un'esperienza in Vaclav Venda e ce ne parla un appassionato di questi autori Angelo Bonaguro della fondazione russa cristiana teatro grazie mi rendo conto che il titolo della mia relazione non si è fra i più immediatamente comprensibili cos'è questa polis parallela chi era Vazza Venda dato che si tratta proprio di un'avventura iniziata parecchi anni fa dobbiamo fare alcuni passi per avvicinarci al contesto da cui è nata proprio la polis parallela in cui hanno operato questi personaggi fra cui l'eroe di stasera Vazza Venda dobbiamo tornare alla seconda metà del 69 un anno cioè quasi un anno dopo l'invasione delle truppe sovietiche che interruppero la primavera di Prada quando la Cicoslovacchia si venne a trovare in una sorta diciamo così di zona rossa per usare un termine attuale che sarebbe durata però un ventennio cioè fino a quell'autunno inverno dell'89 quali sono le conseguenze che questa zona rossa avrebbe lasciato sul paese ce le illustra in sintesi il drammaturgo Vazza Vavri dopo alcuni anni in cui il regime aveva come anestetizzato il paese da un lato pompando l'economia ma dall'altro soppocando le eventuali proteste Havel scrive una lettera al primo segretario del partito in cui analizza la situazione che stava come sgretolando il tessuto sociale scrive Haveli è stato ottenuto l'ordine a prezzo di avvilire lo spirito ottindere il cuore e fare della vita un desiderio è stato ottenuto un consolidamento esteriore a prezzo di provocare la crisi morale e spirituale della società un processo che secondo il drammaturgo ha portato alla perdita dell'orizzonte assoluto e che pertanto concludeva Havel chiamerei crisi dell'identità umana e ancora lui dieci anni dopo osserva che c'è ormai un intero paese come sospeso dalla storia e dalla vita come imprevisto il pilastro del sistema totalitario è l'esistenza di un soggetto unico centrale e monopolistico di ogni verità e potere non c'è posto per il mistero la storia è stata sostituita dalla pseudostoria che non è più un gioco aperto a reciproco confronto dei soggetti ma un'automanifestazione e un'autocelabrazione per il potere totalitario non stiamo parlando esclusivamente di quello agonistico è meglio che l'uomo pensi a versi un caffè e a dare la caccia alle tappelle secondo l'espressione del poeta per il comune e soprattutto ci dirà Benda per il potere il caffè è meglio verserlo da solo è l'individualismo indotto dal regino scrive Benda il primo principio della dominazione totalitaria è la distruzione l'atomizzazione della collettività la cortina di ferro divide tra di loro anche i popoli dell'estero divide le regioni le città le imprese le famiglie gli stessi membri di una famiglia ricapitolando la crisi dell'identità umana la sospensione dalla storia come avvenimento e l'atomizzazione sociale un bel tappeto di foglie secche come ci abbiamo sentito prima ci raccontava il vescovo pezzo eppure ci dice Havel anche sotto il pesante mantello dell'immobilismo e della pseudostoria scorre l'esile ruscello della vita che lo corrode piano piano finché ricomincerà ad accadere qualcosa di autenticamente nuovo in questa situazione si inserisce il nostro eroe Vazzovvenda che qui vediamo con gran parte della famiglia scrive in un testo degli anni settembre sono nato un anno dopo la fine della seconda guerra mondiale sono bianco cattolico politicamente non impegnato immacolato davanti alla legge almeno fino al milano nel 77 nel 77 dopo che ho firmato carta 77 abbiamo rifiutato varie volte l'offerta di biglietti di sola andata per l'austria l'iniziativa informale carta 77 era nata da un gruppetto di scrittori e intellettuali che avevano preso le difese di alcuni musicisti del mondo underground arrestati e condannati con l'attività in breve la comunità raccolta attorno a carta 77 diventa un punto di riferimento sulla situazione dei diritti umani e civili vince così anche Benda firma l'adesione coinvolgendo poi di fatto tutta la famiglia è l'inizio del suo ammutinamento come ce l'ha raccontato simpaticamente uno dei figli quando mio fratello Marek mi sussurrò che papà ha firmato la carta mi chiesi cosa fosse dato che entrambi eravamo esperti di storie di pirati mi rispose è come quando c'è l'ammutinamento ma l'ammutinamento si paga si paga con il licenziamento dal posto di lavoro per Benda che finirà per fare il pochista una delle professioni più diffuse fra i incidenti dell'est e lo pagano anche i figli che non potranno continuare gli studi superiuti l'iniziativa informale carta 77 non si limitava all'aspetto di denunce ma aveva anche un intento pedagogico sia per chi vi partecipava sia anche per la società come esplicitato in quello che è considerato il testamento spirituale del professor Patos una figura centrale nella carta oggi la gente sa di nuovo che esistono cose per le quali vale la pena anche di soffrire e che ciò per cui eventualmente si soffre è ciò per cui vale la pena vivere e che la cosiddetta arte la letteratura la cultura senza queste cose rimarrebbero solo un esercizio accadente se oggi ce ne rendiamo conto è sicuramente grazie anche a carta 77 e a tutto il mondo che ci gira a un anno dall'avvivo di carta 77 Benda scrive un intervento critico proprio sull'esperienza cartista noto come testo sulla polis parale secondo lui la carta nonostante i suoi meriti si era trovata in una situazione schizofrenica da un lato condannava il sistema dall'altro era come se fingesse di ignorare che le promesse ufficiali sui diritti umani sarebbero rimaste sulla carta la scelta etica in più non sembrava aver avuto grandi risultati era morto lo stesso professor Patoci da cui era venuto proprio la spinta etica il potere ignorava carta 77 preferendo scrive lui strangolarla nel buio fuori metafora nella migliore delle ipotesi offrendo un biglietto di sola andata per l'astra e la posizione etica sembrava Benda povera di contenuto propositivo secondo il filosofo era necessario senza dimenticare presupposti etici creare strutture parallele capaci di supplire alla mancanza di istituzioni vicine ai problemi della società o almeno di umanizzarli Benda ci tiene a precisare anche i concetti di polis e di parallela non è la proposta di creare un ghetto di persone che vivrebbero nella verità né quella di preservare alcuni valori come se fossero in un museo la priorità va al rinnovamento della collettività l'interesse comune della polis dell'antica Grecia l'aggettivo parallelo sottolinea sì la differenza con le strutture statali ma non punta all'indipendenza totale dalle istituzioni questo è interessante non si possono cioè ignorare totalmente le strutture ufficiali né esserne la semplice negazione come potrebbero suggerire termini come alternativo d'opposizione contro Havel da parte sua scava nel profondo e osserva che proposte come questa sono il tentativo dei cittadini di negare prima di tutto in sé stessi il meccanismo totalità di fondare la vita su una base nuova la propria identità siamo partiti dalla perdita dell'identità umana denunciata dal drammaturgico e ora è lo stesso Havel a dirci che una proposta come la polis parallela è un'opportunità per ritrovare se stessa scrive Havel la polis parallela ha senso solo come atto di approfondimento della responsabilità verso il tutto e per il tutto come scoperta del luogo più adatto per questo approfondimento e non come fuga da tale responsabilità e se volete sulla stessa linea di tanto altro di senso russo-sovietico ma se non si tratta di un costrutto ideologico qual è la proposta? Venda propone di abbattere o corrodere poco a poco le cortine di ferro in miniatura quelle che dividevano i singoli all'interno della propria famiglia forzare il blocco sociale dell'informazione ritornare alla verità alla giustizia a un ordine di valore che abbia un senso ripristinare il carattere inalienabile della dignità umana e la necessità del vivere insieme nella responsabilità e aggiunge lui nella carità perché Venda viene da un background esplicitamente cristiano ecco secondo lui i compiti della polis parallela corollari non meno importanti occupare il più piccolo spazio in cui il potere si è temporaneamente ritirato guadagnare alla nostra causa comune tutte le forze vive della società una delle priorità su cui intervenire era nella cecoslovacchia di allora il sistema giudizio e qui come esempio concreto di polis parallela vorrei riassumervi l'avventura del comitato per la difesa degli ingiustamenti processati il bonus il comitato fu un'affiliazione di carta 77 costituito nell'aprile del 78 con l'intento di raccogliere la documentazione su casi di detenuti ingiustamente incriminati per motivi politici e ricosciviti erano soprattutto persone che essendo sconosciute in occidente rimanevano in valia delle autorità comuniste e le cui famiglie si venivano a trovare in situazioni estremamente drammatiche tanto più se erano isolati in provincia il bonus intendeva fra l'altro operare nel rispetto delle leggi e dei patti internazionali sui diritti umani che erano stati siglati anche dai paesi socialisti gli accordi di Essenti del 75 come operava il bonus raccoglieva la documentazione sul caso che veniva studiata bene si partecipava alle audienze in tribunale si parlava con i parenti con i diretti interessati e alla fine si preparava un comunicato sul caso privo di commenti bollabili come cortici che veniva inviato agli uffici statali competenti e diffuso anche tramite il bollettino San Isdart informazioni che ci arrivava anche in occidente la vedova di Benda la signora Camila ci ha raccontato che il principio fondamentale era che ciò che veniva scritto fosse attimino non si mentiva a concezione non si bleffava se l'imputato aveva commesso un reato non si tentava di addomesticare o mascherare il caso negli anni 50 la gente spariva nelle carceri non se ne sapeva più nulla nessuno conosceva il significato del sacrificio di me invece grazie al bonus tanti potevano sapere com'era la situazione in un determinato carcere se i detenuti venivano maltrattati com'era un giudice istruttore eccetera scrive la poetessa Lenka Mareczkova non conoscevo la carta o il bonus stavo in carcere con le ladre che mi consideravano una pazza perché ero stata condannata solo per aver letto le mie cose per me ebbe un'enorme importanza sapere che qualcuno pensava a me veniva a farmi visita e che non ero il sogno Anna Shabatova la moglie di Petra Ugl uno degli attivisti del Vons ha raccontato il viaggio fatto con un'amica in treno di notte da Praga a Bratislava per partecipare al processo contro due cartocci nella capitale slovacca dormimmo da una mia ex compagna di studi e potei conoscere il vescovo Core uno dei protagonisti delle comunità clandestine slovacca il quale mi offrì delle caramelle e tante altre persone tutte felicissime che qualcuno fosse venuto da qui può sembrare un episodio totalmente banale ma ben rappresenta l'atmosfera del dissenso che i lettori del nostro portale La Nuova Europa li troveranno ad esempio nei blog della professoressa Sotlana Panic quando racconta dei viaggi in treno con gli amici per presenziare al processo contro Yuri Dmitri uno storico di Memorial incarcerato con accuse infamate e accade oggi non 40 anni fa lo spirito è lo stesso le strutture parallele infatti scrive Havel nel Procedere di Senza Potere non nascono da una visione aprioristica teorica del cambiamento del sistema ma dalle intenzioni della vita e dai bisogni autentici di uomini giudici e procuratori abituati all'arbitrio ora dovevano fare i conti con gli osservatori indipendenti del corso ricorda uno dei figli di Benda il sistema dell'arbitro collaudato cominciò a sentirsi minacciato al punto che iniziarono persino ad emettere sentenze di assoluzione così facendo si era innescato quel processo di umanizzazione delle strutture ufficiali invocato da Benda nel momento in cui aveva teorizzato la quale spara a un certo punto però nel maggio del 79 vengono arrestati 16 attivisti del comitato 10 dei quali verranno condannati tra di loro Havel Benda Uglio Padre Malin Benda e con lui Havel e altri viene condannato a 4 anni di carcere per sovvertimento della ricordata La solidarietà degli scossi come Patocca definiva le persone spiritualmente sensibili si costruisce nella persecuzione e nell'incertezza e questo è il loro fronte silenzioso che non cerca pubblicità e non suscita scambio Non dobbiamo pensare al Bons come non so un ufficio assettico ricavato in qualche garage della periferia di Prato Le riunioni si svolgevano per lo più a casa dei Benda in una atmosfera familiare e amichevole La signora Camilla ci ha raccontato che le case erano luoghi di scambio di informazioni ci si dava un po' di coraggio e di conforto cosa importantissima e nel frattempo si cucinava si lavava la blancheria eccetera una quotidianità che a volte ebbe risultato imprevista come in quel volgimento di persone capitate lì letteralmente per caso come Irgi Gruntola che oggi gestisce una ricca biblioteca di riviste Samisdach delle migrazioni a Prato che nel 78 lavorava come muratore e un giorno capitò a fare un lavoretto in casa dei Benda e lì si imbatte nel Samisdach quando incontrai quei testi per la prima volta raccontato ne fui colpito come da una rivelazione e percepì una sorta di attività spirituale l'amicizia e questa amicizia è fra i protagonisti che non significava andare sempre d'accordo con tutti su tutto e rinunciare alla propria identità per esempio nell'86 quando ci fu un dibattito sulla legge che facilitava l'interruzione di gravidanza volarono scintille anche nell'ambito del senso nella polis parallela ha spiegato Ave c'erano persone di orientamento più diverso dai trotschisti ai conservatori e aggiunge ricordo molto bene gli infiniti contrasti politici di Benda cattolico conservatore e Petr Url grande politico di sinistra erano il sipariato atteso ed emozionante dei nostri incontri aggiunge Patrick Benda quando la mamma era al lavoro si occupava di noi una coppia di comunisti che in cacca del 77 rappresentavano l'estrema sinistra quando il marito fu fermato papà aveva preso le sue difese mentre i compagni lo avevano fatto per loro fu uno shock tale essere stati difesi da un cattolo che per riconoscenza diedero la disponibilità ad accudirci Patrick la mette a sorridere ma è per dare l'idea dell'eterogeneità di quell'ambito nemmeno il carcere significato la fine del bonds le mogli sostituivano i mariti nel tenere i rapporti con i detenuti nell'invio dei pacchi e delle richieste con la morte cecseo che sarebbe bello ripetere scrive dal carcere forse ho la prospettiva deformata ma mi viene da pensare che la mia permanenza qui arrecchie vantaggi incomparabilmente più grandi di qualsiasi altra soluzione in questo momento mi sembra più adatto un tedeo per una lamentazione ecco il bonds è un esempio di polis parallela un esempio forse più incisivo quello che è riuscito a muovere l'io di tanti scossi come direbbe quell'essor Patricio dalle circostanze disposti a lavorare insieme per una vita credo che questa esperienza l'esperienza dei gruppi del dissenso abbia contribuito a creare una cultura che ha permesso la transizione pacifica se più lenta è difficile come se volete dal regime totalitario alla democrazia e nel caso della cecoslovacchia anche la successiva divisione pacifica delle due componenti storiche di terra cieca e della slovacca dopo l'89 inoltre alcuni protagonisti della polis parallela per cui lo stesso Benda hanno avviato il cammino verso la pacificazione del recente passato in totalità grazie alle istituzioni e gli organismi che ancora oggi fanno ricerca conservazione e rilegazione della memoria in modo che soprattutto le giovani generazioni abbiano dei criteri per non rimanere più sospesi dalle storie forse manca l'elaborazione di un percorso educativo al perdono come abbiamo sentito raccontare dal professore Cleo infine infine pensando agli altri paesi usciti dal totalitarismo comunista mi pare di scorgere un eco interessante della polis parallela proprio nella russa dove una transizione cristallina non c'è ancora stata ma dove alcune ONG o alcuni corpi sociali intermedi riescono a supplire la mancanza di istituzioni vicine alla persona o almeno ad umanizzarlo ma credo che di questo sentiranno parlare anche altri studiosi durante il convegno concludo con questo passo da una lettera di Benda dal carcere del febbraio dell'ottanta avere come compito solo quello di sopravvivere equivarrebbe certamente a un suicidio l'uomo non è al mondo per sopravvivere ma per rendere testimonianza alla verità grazie ecco grazie buon auguro la parte segnale del suo intervento introduce immediatamente il prossimo ospite la prossima riflessione che ci viene da Mosca è una rappresentante del Memorial tantissima realtà molto molto diffusa molto anche in contatto con Russia cristiana e interviene proprio su questo aspetto progettuale che accennava buon auguro di educazione che può costituire la memoria la qualcosa però ha bisogno di effettive volontà di effettivi spunti strumenti ogni fotografia ogni volto ogni parola è un contributo e mi veniva come immagine e anche un po' come obiezione che lascio quella immagine del Bons che citava prima quando correnti di pensiero così diverse così estreme su certi accadimenti sono andati in conflitto che cosa hai servito esisteva un luogo dove questi conflitti si potevano discutere affrontare e vivere e rimanere amici e compagni compagni di vita insieme proprio perché tutto è affrontato sull'arri di debilità e su questo ritrovare il fondo della propria esistenza quindi questa questo esempio è per dire come anche solamente progettare tentare di mantenere la memoria quindi le fonti di tutto quello che è accaduto nella propria storia sia un fatto educativo in sé che permetta poi di fiorire delle personalità e fiorire delle libertà quindi ascoltiamo l'ultimo intervento di quest'oggi di Irina Scerbakova che saluto magari gli amici si aiutano con un saluto grazie grazie buongiorno spero che mi sentiate mi sentite benissimo sì grazie grazie veramente per la possibilità di partecipare al vostro convegno la mia relazione in qualche modo è la continuazione del precedente io non sono una teorica sono una persona pratica che lavora con la memoria come la maggior parte di noi in memoriali perché noi ci occupiamo di una conservazione di un mantenimento molto concreto della memoria e io oggi vorrei parlare un po' di come vengono messe sullo sfoglio questa memoria dei dissidenti oggi viene relegata in secondo piano nello spazio pubblico e quando in particolare si parla dei giovani purtroppo sordono delle domande la gente non ne sa niente quindi la gente si chiede ma chi sono questi dissidenti da dove arrivano quanti erano godevano di qualche sostegno di una simpatia nella società in cerchio più ampio delle loro che cosa volevano per il loro paese che finalità perseguivano era una protesta individuale ora un gruppo compatto di compagni ideali esiste un concetto di dissenso come tale hanno contribuito i dissidenti ad affrettare la peristrazione approvavano le riforme iniziate nell'anno 90 e in generale hanno avuto un qualche ruolo nella vita politica e sociale della Russia pop sovietica questa è solo una piccola parte degli interrogativi che sorgono su questo tema e non è facile dare delle risposte univoche innanzitutto da dove nasce il nome di dissidente cominciò ad apparire in effetti non in Russia ma ci è venuto dall'Occidente dai mass media dell'Occidente negli anni 70 in riferimento a quanti informi diverse subivano repressioni in Unione Sovietica per il loro dissidente all'interno del paese inizialmente questo nome dissidente era pressoché ignorato entrò molto globalmente nell'uso corrente fondamentalmente grazie ai programmi delle radio occidentali difficile stabilire chi con quali criteri fosse ammograti tra dissidenti infatti non si parlava di un'organizzazione formalmente costituita e certamente non era non era un'associazione e non aveva assolutamente niente dell'opposizione politica parava i dissidenti si intendeva un consorzio un gruppo assorto nell'ambito dell'intelligenza sovietica principalmente nelle capitali delle varie repubbliche e in primo luogo a Mosca e l'Unigrado e che aveva delle posizioni delle visioni molto eterogenee ho già parlato di questo il nostro relatore precedente di questa varietà di questa eterogeneità di posizioni e all'inizio nella seconda metà degli anni 60 si parlava soprattutto non di dissidenti ma di diversamente pensati di persone che non condividevano cioè moltissime cose che avevano nel paese e solo quando dalla seconda metà degli anni 60 andò abbottandosi la loro attività concreta e queste persone cominciarono a prendere il nome vero e proprio di dissidente tra questi tipi di attività quella più in vista quella più vistosa era quella di difesa dei diritti umani perché a volte si dice dissidente di difesa dei diritti umani quasi parlando come usandoli come sinonimi intendendo la stessa cosa insomma mentre i difesa dei diritti umani erano un determinato gruppo soltanto un certo gruppo all'interno di dissenso e quello che distingueva i difesa dei diritti dei diritti era il loro appello al potere rispettare le norme della legislazione sovietica gli articoli della cofidizione sovietica la dichiarazione di diritti dell'uomo dell'uomo e poi gli appoggi di essi i diritti umani e legalità divennero per essi la chiave per risolvere tutti i problemi sociali iniziativi indiciose dei diritti umani solcere principalmente a Mosca ma esistevano voti anche di Leningrado Tart vedessa nove subis borche in altre grandi città ma questa era solo una parte forse la più vistosa e precisa del suo obiettivo del movimento del dissenso tra i dissidenti però c'erano persone anche molto diverse delle più diverse professioni che non avevano e non potevano avere in comune nessuna ideologia tra coloro che possiamo chiamare dissidenti c'erano persone di visione completamente forte non certo soltanto liberali occidentalisti come si pensava oggi c'erano questionisti nazionalisti attivisti religiosi e così via cioè quelli che si battevano per i diritti religiosi cioè se vogliamo parlare di ciò che in qualche modo univa queste persone era l'aderire a valori comuni tra cui occupavano un posto importante la lotta per i diritti umani e la possibilità di esprimere a voce alta la propria opinione e la battaglia contro le depressioni politiche e l'espressione pubblica di tale posizione e qui è importante dire che la mia ricultura in cui nacque prima ancora nel dissenso un faccio diverso con intelligenza letteraria artistica e scientifica degli anni sessanta proprio allora fece la sua comparsa la generazione più viva della storia di luce della seconda metà del ventesimo secolo che venne appunto chiamata la generazione degli anni sessanta noi potremmo dire sessantini l'infante di questa generazione e il merito della peristroita è proprio di questa generazione perché l'infante di questa generazione coincise con il grande terrore della guerra i suoi membri credbbero senza padri morti nei lagerstamiani alla fronte a volte vennero chiamati figli del ventesimo congresso del pus del cinquanta set la prima volta ci parlò del crimine di stani la non civile tra forse sullo sfondo dalla battaglia di dei tra salmiti e antistamiti proprio loro avrebbero costituito in decenni seguente l'ossatire dell'intelligenza liberale sarebbero stati loro insediti i lettori del samizdat del samizdat il proprio storico sui terribili segreti di stani ma di ripetire la memoria dei padre marcit dalle segreti stani naturalmente anche in esse la lucidità di sguardo sul sistema comunista si fece largo lentamente e in certo tutti vincere a risprimere completamente a risprimere completamente a differenza della generazione del 68 in occidente il luogo in cui poter esprimere la propria visione che i nostri sessantini non fu la politica ma la letteratura e l'arte ma la cosa principale fu che dopo tanti anni di silenzio questa generazione riprese a parlare cominciarono a leggere voce alta pubblicamente poesie ad esempio la prima volta come ben noto sotto il monumento di Mario Costi che è un monumento a posto proprio degli anni 50 proprio i giovani poeti furono il primo vestito simbolo di questa generazione l'attività di questa generazione fu per la vista all'inizio della cultura fu colossale gradualmente cambiò la quotidianità di massa della società conta la resta più libera umanistica nelle concezioni sociali il primo posto viene l'uomo e questa è la cosa più importante l'uomo l'uomo il suo destino i suoi sentimenti la sua psicologia e non la macchina dello stato proprio da questa generazione provengono molti dei primi dissidenti quando dopo la parte di presso ordine è evidente per me sarebbe discernato definitivamente il gene che il processo di destabilizzazione si era interrotto da questo ambiente si può installizzarlo quanto si risolvono solo a portare avanti una protesta se osserviamo le demografie di dissidenti come Larissa Bavaraccia Gioca Cavagliotti Gioca 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 e alla fine a Tandrissa crediamo che in qualche modo tutti appartenivano a questa generazione degli anni sessanta anche atteggiamento nei confronti del proprio background del proprio radio culturale operario nel ventennio successivo molti sessantini cercando di cambiare il sistema dall'interno operando all'interno di ambiti ufficiali e sotto santo censura cercavano di rendere più liberi di allentare i divieti posti al pensiero alla parola e l'importanza di questa attività in primo luogo nell'ambito della letteratura del cinema dell'arte più grande condusse in qualche modo anche se da volte in modo ancora sotterraneo all'umanizzazione e al democrazio della società ma come già detto in questo ambiente ammessero persone che scessero un'altra strada la strada di una resistenza diretta battendosi dall'indipendente della società e della persona in primo luogo per la propria indipendente dal potere statale e il potere rispondeva con repressione per posizione interrogatoria e arresti Arsenio Radieschi dissidente potente politico negli anni 80 così ricordava la propria scelta il punto di partenza era stata la protesta degli 8 sulla piazza rossa contro l'invasione della cipro civacca da parte delle tripi sovieti nel 68 dice e ricordava il 25 agosto sulla piazza rossa non gli atti dei tati ma la cronaca degli avvenimenti correnti che cominciò a cire nel 68 ecco quello che infili molto intensamente a realmente più di noi il 68 ci consiste a farci le domande di fondo come continuare a vivere si può fare qualcosa si deve fare qualcosa vale a dire le domande legate al partecipare o al non partecipare e ancora domande morali come mantenere il rispetto di sé e degli altri dove sono i compiti dei compromessi ebbene a queste domande e ciascuno di noi a modo si accettava delle spunte proprio nel 68 Saffarov diventa si mette ancora non sulla via della dissidenta ma in qualche modo comincia a protestare comincia a spregnare il suo disaccordo con il sistema e adesso diciamo qualche parola su ciò in cui consiste il vero più grande dissidente che erano più diversi iniziative civili culturali religiose collettive individuali pubbliche e clandestine erano testi di protesto individuali e collettivi che rendevano di pubblico e dominio fatti di repressione politiche era dimostrazione organizzata associazione di cose di liti umani era partecipazione alla raccolta di informazioni sulle violazioni di liti umani pubblicazione di bollettini di informazioni attraverso il sammiter oppure e in po infine da rendimento leiti materiali e lezioni politiche e quali oggettivi si ponevano ai dissidenti questa domanda ha sempre una società di discussione anche tra i dissidenti per vari casi predominava il rifiuto tra di loro di qualità attività politica non solo di violenza la violenza come qualità tipo rivoluzionaria regata al sangue veniva assolutamente a reputate assolutamente ma anche l'attività politica che veniva vista in un senso abbastanza distretto a suo tempo l'aveva detto Larissa Bogorazio diceva la politica nella politica non si può ficare il naso la politica è un campo affistato e qui c'è una differenza tra quello che diceva Aver di gente quello che dicevano Pateczka perché c'era una incomprensione di che cosa potrebbe essere invece un'attività politica civica e che si può fare naturalmente attendosi negli anni 70-80 la realizzazione di questi obiettivi in una prospettiva storica immediata certamente la società e la servanza del diritto all'uomo sembrava completamente itapistico così come sperava che il potere cominciasse ad assicurare per i cittadini perfino il diritto e libertà previsti dalla patizione sovietica proprio per questo nel circolo del disenso e cheggiavano detti piuttosto amari come il brindisi come si dice adesso in me al successo della nostra causa disperata e nelle sue memorie se Vieta Valiova riporta questo diario di una domanda ma su voti che cosa contate certo le nostre interiore marce ma anche le interiore di Giantino in cui le sue marce prima di cadere ha continuato a marcire per 300 anni cerra di risposta ai dissidenti beh 300 anni è una stavolta che non sarebbe benissima gli obiettivi che si ponene ai dissidenti potrebbero essere quindi formulate come un tentativo e nonostante tutto di suggerire alla società l'idea della necessità dei cambiamenti di liberare dalla paura e dal mitismo il prezzo pagato chiamare la libertà individuale il prezzo pagato da molti dissidenti era alto per andare all'Ager al confine all'immigrazione e questo naturalmente era una cosa che potevano risolverci sull'imposti e bisognava poi fare conto che con l'immagine dissidente che la propaganda solita impulsava nell'attivizzare che era un agente della CIA una sovietica che rispondeva che diffondeva famiglie sull'insistema solita quando sarebbe al potere garbaciov le organizzazioni del dissenso erano state in gran parte smantellate l'ultima tragica perdita fu la morte nel lago di Amatoia di Amatoia di Amatoia dopo uno sciopero dell'affame per protesto dal quale di fatto inizia la liberazione dell'immigrazione politica la verestrata al suo inizio fece emergere un imprimativo dissidente dal momento che solo queste persone avevano una reale esperienza di lotta contro il potere sovietico mediamente singoli poteri esperimenti emerse ma non come parte di una comunità perché sostanzialmente essa non esisteva e quando venne a mancare un emico con voi e c'è il potere sovietico affioravano anche le irriccibili contraddizioni dal momento che tra i dissidenti c'era una persona di pensizione completamente opposta forza motrice della peristroica non fu risidio di rischio di dissidente la persona con nonicelebre scrittori giornalisti giornalisti poeti sostanzialmente coloro che affatterevano alla generazione degli anni sessanta per le vie delle grandi città le dimostrazioni in favore delle ritorne democrate partecipavano i loro lettori rappresentati dell'intelligenza locale uno dei pochi che ha avuto ha formulato anche delle tesi politiche e molto globali ha fatto delle proposte veramente molto radicali per il cambiamento della società dell'attività sociale ed era importante perché era la personalità più nota e convincente agli occhi della società per questo quando la sua improvvisa morte nel dicembre 1989 fu messa per tutte le forze democrate non esisteva nessun altro che potesse diventare come si diceva allora lavel russo e tra i pochi dissidenti che tentavano di risolvere importanti problemi sociali in senso l'atto che lì si possa citare se gli Cavagliotti voleva rendere istituito della difesa dei diritti parlo del sistema statale negli anni 90 venendo il primo delegato dell'initi umano dell'azienda dell'immigrazione russa oppure se gli raghi si posero il diritto di cittire un'organizzazione pubblica che si occupasse della storia della repressione politica oppure il mille alessia chiamata l'immigrazione che rivede vita al gruppo costituita di ericiti fondato gli opensori dei diritti umani nel 75 la fine degli anni 80 l'initi degli anni 90 il breve periodo in cui al porto della mitologia protagonista brasiliana c'è una certa eroicizzazione sopravvalutazione delle importanti dissidenti eroici combattenti contro il comunismo questa immagine si sostituì a quella della schia e della giudice e della cia e così via ma attraverso questo periodo bisogna dire che molti uomini del sistema si apprezzavano a riparsi la faccia la verigilità delle monoposture invece a prostudere le note passate tuttavia dalla seconda metà degli anni 90 la situazione cominciò a cambiare e la memoria di dissidenti cominciò a essere messo il secondo piano nella famiglia sociale cominciarono i cieli di cieli quelli che ricordavano il ruolo dei dissidenti la generazione degli anni 60 ricevette il duro colpo dalle dure condizioni dell'acquisto economico degli anni 90 la cultura e la scelta cessarono svolgere il ruolo stato sociale e nella crescente nostalgia per la vita sovietica i dissidenti sembravano sempre meno eroi e sempre più estranei e distruttori non corrispondevano più all'epoca dentro che l'interno sembrava antiquati o legittori e quanto più la nostra società si sentiva venuta dall'amministrazzia tanto più fuori luogo sembrava dissenza tutto ciò che rodeva le salve strutture e i fortari passò ovviamente di modo in che modo viene recepito e sentito come attuale oggi la differenza di dissenza hanno fatto riferimento ad essere protetti gli ultimi anni è stata utile la sua esperienza storica che cosa è rimasto nell'attività dei dissidenti dell'epoca sovietica nella nostra memoria odierna e magari nel nostro abbraccio sociale di quello che non escluso può servire alle persone nelle attuali collisioni sociali e che cosa invece è probabilmente invecchiata per questa età e innanzitutto in che misura è prospidiata la sua verità di dissenza non si può dire che non esistano per niente studiati della vita civile nella tarda epoca sovietica c'è tutta una serie di ricercatori che lavorano negli archivi delle stazioni di un'escovita di Esvipitra Gurd ci sono collezioni di San Isdat la biblioteca storica russa nell'archivio Shafran il sitito dell'estoria di Buddha questo centro che è l'Europa orientale di Brema ma come dice Alessandra Agnell l'esperienza del dissenso non è diventata parte della presenza nazionale russa se non altro nella misura in cui parte della presenza nazionale divenne l'esperienza dei cabristi e dei partecipanti ad altri movimenti di liberazione nella russa del diciano mese e l'inizio del democito eppure negli ultimi tempi indubbiamente c'è avuto un crocente interesse per il movimento del dissenso soprattutto tra i cittadini e gli attivisti civici questo fenomeno si collega alla percezione del ruolo della donna in dissenso dell'Europa orientale la data che è stata scelta del presidente il 30 ottobre il giorno del prigioniero politico è stata in Russia e ogni anno diventa sempre più una data significativa una data in cui vengono letti i nomi delle vittime delle repressioni politiche quest'anno le hanno lette in almeno dieci città in tutto il paese in decine di città in tutto il paese e in questa azione simbolica e di questa azione simbolica noi siamo veramente debitori del fatto che questa data vengono scelta del dissidente negli anni 70 in quest'anno anno del centenario di sacro ha visto moltissime film moltissime mostre moltissimi dibattiti a più hanno partecipato tutte le varie generazioni non è stata semplicemente una celebrazione così jubilare ma è proprio una coscienza nuova della situazione che c'è è la coscienza della sempre crescente violenza statale il fatto che lo Stato oggi impiega la violenza in modo più più tremendo di quello di cui veniva impiegato contro i dissidenti all'epoca di Brieste oggi contro i depositori politici il potere usa quali interventi dalle passi accuse diciamo di articoli del diritto penale sia o di altri entri della cultura e questa e questa violenza si accompagna una propaganda ben più aggressiva che inventa chi dire di agenti straniere pezzolati nemici interni e più decolome insieme al filto della guerra è tornato Stalin come se non ci fosse mai stato una sua smascheramento non ci fossero mai state tutte le decine di tecni che la gente leggeva negli anni del 60 70 tanto più nasce la necessità di basarsi sull'esperienza di vari formi di resistenza soprattutto in una situazione forse analoga a quella che c'era all'epoca di Brieo Svodiano quando sembrava che non ci fosse da sperare possibilitamente a Brieo però possiamo ricordarle le parole di Andrei Sackar che negli anni 70 rispondendo una vista straniera disse che nei decenni a venire lì non si aspettava il punto avvenevo nel paese ma giuse e poi ci pensate ma chissà magari la talpa della storia sta scavando senza farsi un accoggio grazie della vostra attenzione grazie di cuore perché mi sembra che questa relazione sia non solo interessante per i contenuti ma anche proprio per il metodo che propone questa capacità di leggere dal punto di vista storico il fenomeno del dissenso anche in un certo senso riconoscendone la varietà e anche demitizzandone alcune visioni mi sembra che corrisponda perfettamente al titolo della nostra sessione che era il recupero di una memoria che libera dall'autoreferenzialità nell'affrontare il presente perché oggi è proprio dall'ascolto reciproco tra chi custodisce la memoria della dissidenza e la novità di questi giovani che stanno sperimentando essi stessi che cosa significa guardare a una sempre maggiore pervasività del potere anche in una situazione così diversa ecco questo mi sembra che sia veramente un aiuto per chiudere la sessione iniziale e lasciare anche lo spazio per qualche domanda abbiamo qualche minuto ancora abbiamo compiuto un un ampio cammino mi sembra siamo partiti dalla questione del perdono e dal tentativo di riconoscere al perdono un valore anche civile anche potremmo dire strutturato in riferimento alla giustizia processuale cosa che si è visto non è assolutamente semplice abbiamo poi anche avuto l'aiuto a riscoprire come fin dal tempi della rivoluzione subito dopo la rivoluzione si si verificano già quelle possibilità di una evoluzione del pensiero e di un riconoscimento di quello che sta accadendo ma anche di vie possibili per uscire dalla chiusura in cui le logiche necessarie della rivoluzione sembravano aver rinchiuso tutto e poi abbiamo conosciuto anche questa esperienza di polis parallela che in fondo è se stessa un modo di poter stare dentro una realtà pesantemente segnata dalla mancanza di libertà ma dove ecco si può cominciare lo stesso a vivere una libertà ecco se qualche domanda anche da quanti sono in sala viene proposta possiamo chiedere ai nostri volevo chiedere a di tra e lui ha parlato del perdono come di un fenomeno personale e che però ha una ricaduta sociale il perdono secondo quanto ha detto ma però richiesto ci vuole il pentimento a me sembra che nell'esperienza per esempio italiana ma non solo ci sono tanti ex terroristi irriducibili tanti che hanno compiuto il male ma non si sono pentiti ho l'esempio di Giovanni Paolo secondo che andò in prigione a trovare Ali Aqcha il suo tentatore che non aveva nessuna desiderio di pentirsi ne mai si è pentito ma il Papa lo ha perdonato lo stesso allora mi chiedo cosa in questi casi che non sono infrequenti come può funzionare il perdono che ricaduta è insensato inutile o serve lo stesso grazie grazie la domanda è se è possibile il perdono anche se da parte del colpevole non c'è una richiesta di perdono io cerco di parlare non soltanto della dimensione personale ma anche di quella sociopolitica perché questa istituzione la commissione che si occupa di questo perdono nella Sud Africa è l'esempio più famoso è un fenomeno molto diffuso in vari paesi dell'Africa Roana Mozambico dalla metà degli anni 90 e viene usato in questo senso il perdono invece del processo di una criminale la esperienza che si è accumulata di testimonianze su questo processo ci fa vedere che questo perdono stesso è unilaterale e sorge il problema perché questo perdono molto spesso diventa una conservazione del problema il male non viene eliminato prende nuovi forni nasce un'invidiazione chi di fatto si trova costretto a perdonare perché non può fare altrimenti perché colpivano non vengono colpite in qualche modo non perdona veramente è un'esperienza negativa effettivamente il perdono nella storia dell'umanità per quanto possa sembrare strano è un fenomeno che cambia e quando noi parliamo del perdono sembra che noi parliamo di una cosa evidente ma in realtà non è proprio così nell'antichità l'antichità non conosceva il perdono nel senso cristiano il perdono cristiano è il il perdono dell'antico testamento è una remissione del debito un condono del debito nei padri il perdono è spesso una una instaurazione dei rapporti non personali ma è una relazione molto spesso nei confronti di Dio il mio compito è quello di perdonare perché se io mi ostino nel male e non perdono io sono diviso dal male sono diviso da Dio quindi è un quasi un problema un rapporto tra me e Dio e non tanto con il mio prossimo e non solo dal momento da Kant cioè dal XVIII secolo l'accento viene posto in modo serio sul perdono tra persone e questa condizione per cui il colpevole deve chiedere perdono è una condizione importante che a me sembra quando noi parliamo del perdono incondizionato parliamo della tradizione millenaria in particolare cristiana ma questa categoria cambia e si sviluppa e a me sembra che l'esperienza della soluzione dei problemi legati agli crimini di Stato mettersi l'accento sul problema interpersonale tra le due parti e deve per forza le cose essere diunito cioè porre da un lato il perdono accordato dalla vittima dall'altra parte portare le scuse e chiedere perdone da parte del colpevole perché possa realmente instaurarsi un nuovo tipo di realtà di volte della società a me sembra che su questi aspetti il nostro ventesimo secolo ha richiesto in particolare l'attenzione c'è qualche altra domanda volevo fare una domanda a Irina Cervakova lei ha parlato descrivendo il gruppo degli inatomisti del valore della persona e penso anche della stima reciproca tra pensieri posizioni completamente diversi poi ha detto anche però che quando è venuto meno il nemico comune questo non è bastato a mantenere la coesione la coesione quello che lei vede oggi nelle varie forme di resistenza di opposizione di volontariato tra i giovani trova qualcosa di simile cioè una stima per la persona una non violenza e però ancora una volta è il nemico comune che li tiene insieme so e grazie della domanda non è così facile rispondere perché effettivamente quanto più autoritario diventa il regime, tanto più si trasforma in dittatura, tanto più il potere appare a molti, almeno per quelli che non sono d'accordo, esattamente questo stesso nemico comune. Questo può effettivamente far pensare a una certa somiglianza, perché per esempio quelli che scendevano in piazza per difendere Navalny non necessariamente condividevano le sue visioni, o perlomeno quello che diceva alcuni anni fa, semplicemente scendevano in piazza per protestare contro la violenza nei confronti. Così pure anche le cosiddette votazioni intelligenti, per cui alcuni hanno votato per i comunisti pur di non votare per i candidati del potere. Quindi è vero che c'è un nemico comune che in qualche modo galvanizza insieme, inizia insieme le persone. Quando cominciano terribili... La cosa veramente triste è quando cominciano queste dispute, queste discussioni, queste liti, si può dire, tra colori che invece dovrebbero porre un'alternativa nuova. Quando c'è più libertà ci perdiamo in polemiche tra di noi. Quando invece il potere diventa veramente così forte e violento, tutti convogliano le proprie forze per fare fronte comune contro il nemico. Un luogo molto importante è il network. E noi purtroppo vediamo molto spesso anche sul network delle terribili limite di verbi che arrivano allo scandale. Io non direi che questo è l'orientare del dissenso. Io quello che ho visto anche tra i dissidenti, anche quando c'erano delle vivace e feroce discussioni, c'era comunque un atteggiamento di rispetto nei confronti dell'altro e della sua posizione. Oggi purtroppo, al di là del fronte comune che si fa, vediamo delle polemiche, degli scandali terribili che sono veramente vergognose, in cui si perde veramente il senso della dignità della persona. Ecco, purtroppo questo rispetto dell'altro, questa insacralità quasi dell'altro è quello che manca. Questa violenza che oggi c'è anche negli oppositori del regime è un fenomeno molto pericoloso e molto triste. Non so se ho risposto, d'altra parte è una domanda molto vasta a cui si potrebbe rispondere, ma se vogliamo dirla così in breve, in modo conciso direi così. Grazie molto, soprattutto perché questa risposta mi sembra ci aiuti a preparare anche la sessione di domani, perché se la parola chiave di questa sera era memoria, memoria come riconoscimento di un passato che ti libera dalla autoreferenzialità, la parola chiave di domani sarà dialogo al mattino. dialogo proprio come metodo perché quando la memoria ti aiuta a pensare per il presente una possibilità diversa, questo non implica immediatamente che questo sia visto da tutti e sia condiviso da tutti. Allora, lo strumento del dialogo vedremo domani come diventa lo strumento più fecondo perché una memoria liberata possa agire nel presente, ma appunto attraverso un metodo che è quello del piano. Quindi io direi che possiamo davvero ringraziare di cuore tutti i presenti, tanto in persona quanto in collegamento. Purtroppo la prima parte della nostra serata ha avuto qualche problema di trasmissione in streaming, ma confidiamo che domattina invece tutto sarà più fiscio e che l'intera sessione di questa sera, che è stata comunque registrata, che potrà sostituire su YouTube il filmato un pomonco che viene dalla diretta. Grazie a tutti, grazie di cuore per la vostra presenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.